Buonasera agli amici dei Love Italian Food, siamo al fuori salone organizzato in occasione della fiera CIBUS di Parma e siamo con un ospite d'eccezione Riccardo Astolfi che ha appena pubblicato il suo libro Passamadre. Ciao Riccardo. Allora innanzitutto ti chiedo come nasce la tua passione per il cibo? Come tutte le cose nasce un po' in maniera casuale, nel senso che io ho fatto tutte altre cose nella vita, tutti altri studi perché sono un ingegnere in realtà, poi ormai dieci anni fa ho cominciato a lavorare nell'alimentare perché lavoravo negli acquisti di un'azienda che fa ristorazione, quindi da lì vedendo un po' il mondo del cibo diciamo da dietro ho cominciato a farmi delle domande e a interessarmi su quello, con tutti i pro e tutti i contro che ci sono nella filiera dell'agroalimentare. Da lì appunto ho cominciato a collaborare con Slow Food come volontario e diciamo che se devo definire un momento in cui magari è scattato qualcosa, è stato nel 2006 ho fatto il volontario per Terra Madre e lì collaboravo con, cioè in pratica seguivo le comunità dell'India in giro per Torino a dormire, cioè in pratica facevo l'accompagnatore di questi 100 contadini indiani e lì quei 4-5 giorni in contatto con loro diciamo che è nato il bisogno quasi di dire io vorrei fare questo di lavoro, che poi questo non vuol dire niente, ma proprio di lavorare nell'alimentare e questo appunto era il 2006. E appunto da lì passo dopo passo mi sono sempre più appassionato tanto poi di, tanto poi da nel, cos'era, il 2009 mia suocera fece la pasta madre, lei, dalla ricetta delle sorelle simili, più chi le conosce sono ormai delle signore molto anziane, però diciamo che sono i primi miti della panificazione domestica, che loro sono di Bologna, quindi lei fece la ricetta seguendo un libro delle simili e mi regalò sta pasta madre che io quel tempo lì magari ne avevo sentito parlare ma non spievo neanche che cavolo era. E da lì pian piano ho cominciato a appassionarmi, a fare i panni io, che i primi erano dei sassi da tirare contro il vetro. E poi ho aperto il sito, che inizialmente era un blog semplice mio, poi pian piano ho aumentato con la mappa degli spacciatori di pasta madre e sempre più ricette, varie cose, tanto poi da avere l'opportunità poi di scrivere un libro. I Love Italian Food promuove il made in Italy, tutto il cibo made in Italy. Se tu avessi un amico straniero, magari ti è anche già capitato, da portare in Italia, che viene in Italia per la prima volta, cosa gli faresti assaggiare? Qual è il piatto tipico che secondo te meglio ci rappresenta e qual è il tuo preferito? La domanda è difficile. Se io dico che tutta la cucina italiana è buona, le tradizioni vanno bene, non vale. Allora forse la pizza proporrei, perché da un lato secondo me, a parte tutto, la pizza rappresenta l'Italia, a parte gli stereotipi in Italia e nel mondo. Poi è il cibo, forse uno dei cibi che io appresto di più, poi è anche in incline con quello che ho scritto sul libro. Ovviamente è una pizza pasta madre con farine biologiche, macinate a pietra, magari di grani antichi. Che comunque ci sono pizzerie in Italia che lavorano in questo modo. Nel caso non fossero aperte, possiamo venire a casa mia. Entrando un po' più nello specifico invece del tuo libro, insomma, della pasta madre, perché consiglieresti a qualcuno di lasciarsi affascinare dalla pasta madre, da questo tipo di lievitazione? Ma questa è una domanda che mi fanno spesso perché tutti mi dicono, ma cos'è questo sbattimento di fare il pane con la pasta madre, devi stare lì una giornata, puoi tenere il lievito? Allora magari adesso sembra un po' un fricchettone, però secondo me la risposta è nei sorrisi, cioè nei sorrisi che tu doni alla tua famiglia quando dici facciamo il pane che diventa un rito, che diventa un prodotto comunque buono, che diventa pane, diventa pizza, diventa brioche, diventa merenda. E poi che diventano sorrisi anche nelle persone a cui tu regali il lievito, a cui spacci il lievito e dici, no guarda, questo qua è gratis, cioè, ma ti devo dare qualcosa, ma no no, questo te lo regalo, poi dopo tu a casa fai così, fai così, fai così, quindi il gesto gratuito del regalare il lievito che poi fa parte, è una parte fondamentale della comunità che sta dietro la pasta madre, crea sorrisi e questo secondo me è bellissimo. e poi anche sorrisi magari degli agricoltori a cui tu man mano ti avvicini perché cominci a farti delle domande, quindi vai dall'agricoltore vicino a casa e cominci a chiedergli che farine produci, ma come massi, che crani sono, quindi valorizzi il suo lavoro che magari in realtà sarebbe invece smerciato a poco prezzo, quindi dai un valore anche a queste cose. E poi soprattutto forse egoisticamente il sorrisi della tua pancia, perché è un pane buono, digeribile, che dura, gustoso, cioè non ha paragoni, diciamo. Quindi il motivo è questo qui. Dura quanto? Per sempre. Per sempre. Cioè, la pasta madre è per sempre, il pane anche più di una settimana. Ti chiedo se e come la pasta madre può essere un modo per valorizzare il made in Italy. Ma sì, secondo me la pasta madre è come poi tutte le autoproduzioni, cioè quando comunque cominci a appassionarti a farti le cose in casa, che sia appunto il pane, la birra, i saponi, qualsiasi cosa, ti costringe a farti delle domande. Allora tu cominci col pane e la pasta madre e dici, ma quindi lievita così, dovrei fare così, ci sono altre tecniche di impasto, il forno, come devo impostare. Quindi farti fare delle domande sempre con l'ottica di migliorarti, fare un pane più buono per te poi. E mi sono reso conto, è una cosa che ho vissuto sulla mia pelle, ma poi mi sono reso conto anche nelle persone che ho incontrato, che poi ti fai delle domande sempre più indietro sulla filiera. Quindi dici, ok, il pane mi soddisfa. Adesso comincio a chiedermi, ma le farine che uso, che farine sono, da dove vengono, chi le fa? Quindi cominci magari a appassionarti a grani diversi dal frumento classico, quindi magari vai verso il farro, oppure cominci a usare orzo, multicereali, anche farine senza glutine. Cominci a conoscere il mondo dei cereali e a sua volta dici, ma come vengono utilizzati, come vengono prodotti, quindi le macinazioni a pietra, la filiera a corte, le varietà antiche, quindi secondo me è anche un metodo per indirizzare i tuoi consumi a partire dal prodotto base della filiera, che in questo caso è il grano e poi la farina. Quindi per rispondere alla tua domanda, puoi aiutare il Made in Italy perché facendoti le cose in casa, facendoti il pane in casa con l'evito madre, vai veramente alle radici del pane e quindi del cereale, quindi vai dal contadino, quindi accorci molto la filiera e sostenibili l'economia locale. Grazie a Riccardo per essere stato nostro ospite a questo primo fuorisalone, leggete pasta madre e ci vediamo al prossimo incontro. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.